vogliamo dire che da oggi è molto più facile iscriversi al nostro canale youtube vogliamo dirlo come bisogna fare come bisogna fare a nuosai bisogna cliccare sulla fronte di aurelio andrea soli ma perché adesso sulla fronte ecco lasciamo qui vada sulla fronte c'è scritto iscriviti ora quindi se voi col mouse gentilmente appoggiate il cursore in anzi il puntatore sulla frase iscriviti ora sarete automaticamente iscritti automaticamente esatto da questo ricordiamo che è un canale che parla di calcio in maniera ironica divertente spassionata senza capire no 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 assolutamente non lasciamo fare quelli bravi le cose serie commenti serio il calcio non andate su sto canale non lasciateci perdere venite per sentire che mi sono mai vantato di essere un conoscitore assoluto venite per sentire le frescacce ma volendo siccome il canale si sta espandendo voi che siete dei falliti senza una vita e ve la prendete ve le cazzate diciamo noi il problema è vostro non è no no più che altro se siete dei falliti come noi potete partecipare potete partecipare anche voi fattivamente al canale raccontando cazzate a raffica come facciamo noi giornalmente vabbè però può nascere un confronto un contraddittorio un insultaggio vario sempre un insultorio sempre lasciando stare le madri ovviamente non tocchiamo le madri esatto quindi se voi potete accendere la vostra camera purtroppo ve la faccia e capito ecco basta allora ripetiamo ecco questo è aurelio qua sopra cliccate iscriviti ora ciao arrivederci ciao